buongiorno buongiorno allora al primo daniele peduzzi beh perché forse perché sei vicino vediamo un po se se riesco a vedere dove dove sei tu dovresti essere aspetta a quanto che ecco qua tu dovresti essere qua aspetta qua allora perché daniele peduzzi vista brunate no per cui va visto lì allora la situazione è lievemente confusa innanzitutto registriamo che per una volta i dati pur devastantemente tragici registrano un minimo arretramento crociamo le dita perché veramente se si fosse continuati andare in crescita esponenziale qua la questione sarebbe stata veramente veramente devastante per cui speriamo insomma l'unica cosa che possiamo fare dal lato sanitario sperare non è ripeto non è il mio tema io non 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 mi unisco al gruppo dei dei virologi ormai di della della domenica no seminari perché tanto vabbè da quel lato lì a ripeto possiamo possiamo soltanto soltanto sperare dall'altra parte però rileviamo come ci sia un lieve caos nel senso che ieri come avete notato il nostro simpatico simpaticissimo presidente del consiglio dopo averci comunicato che è stato tutto il giorno a parlare con confindustria con le con i sindacati per il decreto di chiusura totale delle delle fabbriche non non necessarie peccato che non ci sia la lista peccato che non ci sia il decreto e peccato che mi risulta mi risulta dalle informazioni che ho che sia praticamente preso per le orecchie da buona parte del mondo industriale italiano che sta e quindi il decreto probabilmente slitterà mercoledì ora che cosa sei stato a fare tutto ieri giuseppe conte che cosa sei stato a fare tutto ieri perché tu non sei stato tutto il giorno a parlare con i sindacati a parlare e a parlare con la confindustria a quanto pare perché se la confindustria e gli altri industriali devono ti hanno preso per le orecchie stamattina dicendo che non va bene quello che tu hai detto quello che tu hai fatto evidentemente tu non non eri con la confindustria dato che ho visto un articolo di gentiloni che invece parla diffusamente delle tre opzioni che ci potrebbero essere per l'euro gruppo di settimana e per per l'euro summit di settimana prossima per la crisi che sono opzione 1 mess opzione 2 mess opzione 3 mess non è che tu sei stato a parlare di mess invece che parlare di questioni relative a il alla vita dei tuoi concittadini e dopo aver fatto questo sentivi proprio il bisogno di fare la diretta facebook io direi io direi anche basta è rimiamo tutti dalla stessa parte siamo tutti siamo tutti collaborativi siamo tutti siamo tutti propositivi io e da stamattina presto che mi guardo bozze di possibili emendamenti per migliorare il crescitalia e cose di questo tipo ma mi sembra abbastanza evidente che le cose non vadano particolarmente bene quindi dobbiamo andare avanti così oppure forse facciamo quello che doveva essere fatto fin dall'inizio vale a dire che se si tratta di emergenza la gestiamo assieme e si fa tutti un passo indietro perché qua con la brillante retorica dell'uomo solo al comando l'uomo solo al comando può andare bene se è capace ma tu non sei capace ma non sei capace di fare una conferenza stampa giuseppe conte cioè alla sera su facebook dai un orario e poi arrivi costantemente dopo ma anche quando mi invitavi a palazzo chigi per parlare stavo un'ora ad aspettare nel salotto giallo la puntualità è virtù dei re e tu non puoi dire io sono conte ma non è questione di dire in un casino del genere chi se ne frega della puntualità è tutto il metodo è tutto il sistema tu che cosa è servito andare a fare quell'annuncio lì prima ti presenti con la lista delle aziende che vuoi che chiudano concordata al dettaglio ti presenti anche con il testo del decreto e poi lo spieghi stanno ricominciando a girare le bozze sul telefonino ne ho quattro di bozze del decreto che girano che vengono diffuse perché perché diffondendo le bozze così facendo raccolgono poi le opinioni e le correggono in corsa ma non si può fare il sistema sulle bozze non si può fare il sistema senza passare per il parlamento perché si passa solo dai dpcm spieghiamolo il decreto della presidenza del consiglio dei ministri è un atto amministrativo quindi non è neanche un decreto legge quindi quando settimana prossima l'attività del parlamento perché c'è attenzione cioè uno dice quando noi diciamo aprite il parlamento non è che il parlamento è chiuso non è che è sbarrato il parlamento è aperto tanto è vero che si inizia la discussione del decreto il cosiddetto cure italia no e inizia martedì con l'audizione del del ministro gualtieri sul decreto cure italia che quello per intendersi dei 25 miliardi il resto compresa l'ordinanza di oggi pomeriggio che impedisce di cambiare comune ora se era già vietato spostarsi no scusate seguite il ragionamento io ero rimasto che sin dal primo inizio c'era scritto che era vietato spostarsi non solo al di fuori delle zone rosse ma all'interno del territorio nazionale salvo necessità lavoro e questioni sanitarie dovrebbe essere sufficiente no per come come spiegazione poi al massimo uno può mettere delle sanzioni più elevate rispetto a quelle a quelle che han detto la sanzione penale non è stata abbastanza capita facciamo anche un'amministrativa tale per cui uno che fa il party sulla spiaggia e così questo tipo lo sanzioniamo va bene ma ma se tu dici che non si può cambiare comune lo stai dicendo che non lo puoi fare neanche per i casi precedenti quindi se io sono un paese che non ce l'ha il supermercato mi spieghi com'è che faccio a fare la spesa se non posso cambiare comune ma attenzione il passaggio è stato un altro perché prima c'è stato quel decreto che era quello della zona rossa che dice che non si può non si possono fare spostamenti nel territorio nazionale tant'è vero che io sono bloccato qua per carità è un bel essere bloccato però magari potevo scegliere di di andare a milano no così questo tipo no qua mi ha preso il decreto e qua io mi sono fermato il senza senza avere appunto gli spostamenti all'interno del del territorio del territorio nazionale il passaggio quello del dell'ordinanza dell'altro ieri quella che è stata passata limata parole per parole che quella famosa del nei giorni festivi e prefestivi e in quegli altri scritto proprio così è perché l'ha limato parola per parola il nostro brillante professore di diritto quindi nei giorni festivi e in quegli altri che immediatamente seguono e precedono è vietato andare nella seconda casa ora ma se avevamo già detto che erano vietati gli spostamenti salvo far la spesa lavoro e necessità sanitarie ma chi cazzo era 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 autorizzato andare alla seconda casa prima evidentemente già non poteva adesso come secondo passaggio abbiamo che non può invece uscire dal comune ma se io ma se io devo fare la spesa ripeto e magari ho soltanto sono sono in quei comuni sapete adesso poi lui magari abita ormai abita lì in via del corso no con all'hotel come cacchio è il il plazza credo qualcosa del genere no lì in via del corso ma esiste anche qualcos'altro oltre via del corso è cioè ci sono tanti paesi adesso per carità karate urio che è un che è un paese di 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 mille abitanti è particolarmente fortunato perché all'interno del territorio comunale ci sono tre negozietti che vendono che vendono anche anche alimentari quindi lusso ma magari ci sono tanti piccoli paesi perché l'italia è fatta anche di piccoli paesi dove magari il negozietto non c'è sapete anche perché non c'è perché magari lasciando mano libera la grande distribuzione come è stato fatto c'è vicino un mega supermercato e il mega supermercato ha fatto chiudere tutti i negozietti del 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 paese bene io adesso che cosa faccio non posso spostarmi di paese per fare la spesa ma come ma come vi vengono ma soprattutto ma soprattutto il problema è sempre lì noi stiamo parlando di queste cose dirette notturne via facebook conferenze stampa senza giornalisti annunci di chiusura e senza decreto e così via e ancora non abbiamo risposto alla domanda principale è in che maniera mi fate arrivare i soldi ai cittadini che ne hanno bisogno il fatto che magari uno abituato all'impiego statale che in questo momento è sicuramente una condizione privilegiata e mi ci metto anch'io non abbia particolari dubbi sull'accredito del del proprio stipendio non comporta che tutto il mondo sia un impiegato statale io posso capire che tutti quelli che in questo momento sono lì le schiere di burocrati che sono a scrivere questi questi decreti perché non crediate che si scrive da sola c'è tutta una torma di personaggi che che scrivono queste cose abbiano questo gran problema perché sono tutti nella stessa medesima situazione a fine mese lo stipendio c'è ma signori in italia ci sono tanti paesi non so ecco scusate vediamo là in alto ecco quello è palanzo quello è molina quello è faggeto ora questo è torno questo questo si chiama torno ecco qui dentro tante volte non c'è il supermercato e tante volte ci sono artigiani ci sono piccoli operatori che che vanno dal dal giardiniere che vanno dallo stagionale che vanno da chi lavora nel turismo camerieri gente che aveva un ristorante così questo tipo bene questi qua questi qui non è che vogliamo risolvere il problema impedendogli anche di andare a fare la spesa quindi tanto soldi non c'è non puoi neanche a fare la spesa bruca cioè l'idea che cos'è stiamo cercando di convertire l'italiano in ruminante così facendo esce fuori cercando il giardino bruca e non spende e quindi e quindi a posto non si non ci si pone il problema ma insomma ma 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 queste queste maniere devono basta basta così cioè non non è che facendo la comunicazione veramente mi spiace citare renzi da grande fratello si risolvono queste questioni qui ci sono delle delle situazioni tale per cui il paese va rimesso va rimesso va rimesso in moto e dove tutti non sanno adesso al pomeriggio di domenica non sanno se domani possono andare a lavorare e in ogni caso quasi tutti non sanno se dove da dove riceveranno i soldi per poter andare avanti ma come si fa come si fa e all'euro gruppo e all'euro gruppo dobbiamo anche spiegare una cosa già a cominciare a dirlo che il deficit sarà altissimo ma non sarà altissimo solo per noi purtroppo perché vedo basta vedere come vanno le curve no dei dei contagi dei morti in spagna sarà un disastro in francia sarà un disastro siamo tutti nella stessa barca e se tutti sì certo che la lega chiede chiudere tutto ma purtroppo cara mia non siamo noi al governo se noi fossimo al governo non andiamo in televisione a dire chiudiamo tutto senza avere pronto l'elenco di chi deve chiudere e soprattutto senza avere pronto perché io se fossi stato al governo vi posso assicurare al governo in maggioranza vi posso assicurare che non avrei fatto uscire la gente dal dal dalla sala riunioni se non avessi detto qui non si non si dice che si chiude tutto e non si fa nessun annuncio fino a che non è chiaro dove arrivano i soldi fino a che non è chiaro in che maniera vengono risarciti quegli imprenditori che devono chiudere tutto e in che maniera sono viene assicurato il reddito di chi deve stare a casa cioè che che bisogna stare chiusi in casa mi sembra che in questo momento l'abbiamo recepito un pochettino tutti ma ma non è indifferente i modi con cui viene gestita gestita una cosa non si può dirlo e basta lo dici di notte il sabato così perché ma per cosa comunque al di là di questa simpatica situazione che simpatica per niente vorrei ricordare merced in quarantena adesso non lo so ma le auguro le auguro di di stare benissimo a parte che un conto è l'incontro un conto è la positività ma soprattutto dentro questo disastro c'è una cosa che non dorme mai è la macchina del mess l'avete visto anche oggi l'avete visto sul financial times gentiloni che dice che si sta lavorando lacrimente per queste per queste cose allora deve essere chiaro a tutti una cosa il deficit sarà altissimo questo deficit altissimo deve essere finanziato ovviamente con l'emissione di titoli che vengono acquistati sul mercato con la garanzia della banca centrale questo succede in tutti i paesi che non hanno la minima preoccupazione in questo momento né per lo spread né per nulla e già forse ci deve far riflettere una cosa perché tu ti dice ogni tanto leggo qualche ridicolo messaggio e dice meno male che siamo nell'unione europea perché sennò altrimenti no meno male tutti gli altri paesi hanno già detto cosa spetta ai singoli cittadini quanti sono i soldi e non c'è nessun problema dove procurarsene siamo solo noi che dobbiamo chiedere il permesso all'olandese o a qualcun altro per vedere se e quando poter poter fare il minimo indispensabile claudio perché sei fuori cos'è il fenomeno del cioè io scusate non ce l'ho con te la prendo la prendo con tutti sono fuori perché il mio balcone sono dubbi eccolo qua questo tetto di casa mia tetto di casa mia balcone vedete ecco questi qui sono tegole si chiama tegole quindi non sono fuori a pascolare o cose di questo tipo ogni tanto c'è sempre qualcuno che se ne frega di quello che dico io e che sta cercando a guardare e sta cercando di guardare se per caso io trasgredisco mamma che pazienza che ci vuole ma stiamo parlando dei dei soldi che 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 dobbiamo che dobbiamo dare a tutti e ogni tanto ma no ma non sei scusa non sei tu è ma guarda che ogni tanto ogni tanto c'è ogni tanto c'è il fenomeno comunque in una maniera o nell'altra il punto è questo deficit molto alto perché perché le entrate fiscali non ci saranno le uscite anche solo legate agli stabilizzatori automatici leggi alla cassa integrazione saranno notevoli beh scusate ma il deficit io non so vorrei un numero in testa ma secondo me sarà elevato questo deficit comporta supponiamo che sia il 10 per cento di deficit pile 10 per cento di deficit pile sono 180 miliardi quindi significa ci sono 180 miliardi di titoli che devono essere emessi per finanziare il deficit medesimo e dall'altra parte ci sono c'è rinnovo dei titoli che sono in scadenza capite bene che i famosi 750 miliardi quelli del promessi dalla banca centrale europea sono un aperitivo il mess come qualche fesso sta ancora perché tutta la propaganda sta andando avanti a pieno vapore no può essere una soluzione no non può ovviamente essere una soluzione perché in questo momento come vi ha spiegato bagnai andatevi a rivedere il suo intervento nel mess di soldi ce ne sono pochissimi se per farli affluire dovrebbe il mess emettere dei titoli a sua volta e farseli comprare dalla banca centrale europea cos'è la differenza che in quel caso li distribuisce un tedesco e il tedesco non li distribuisce dandoli a chi serve il tedesco come sempre ti fa firmare il la cambiale per per il tuo futuro bene non mi sembra il caso non mi sembra in questo momento a nessuno che in questo momento sta venendo portato in ospedale qualcuno può pensare di far firmare un contratto impegnativo per il futuro se tu sei incosciente stai venendo portato in ospedale non puoi essere vittima di qualcuno che ti vuol far indebitare per il futuro spero che sia chiaro è questo il motivo c'è stato anche un appello di tanti economisti fra cui zezza cesarato e così via che dicono la cosa ovvia c'è de graue che dice la cosa ovvia vale a dire che l'unica cosa è la monetizzazione da parte della banca centrale tutti dicono la cosa ovvia se questi se questa banda continua andare avanti no invece a pretendere cose non ovvie vale a dire il l'utilizzo del mess per una cosa che non serve evidentemente gli interessi sono altri cosa possiamo fare beh a questo punto la cosa da fare è solo perché qualcuno dice che cosa potete fare perché voi dell'opposizione non fate qualcosa perché noi dell'opposizione siamo l'opposizione e come tale tu puoi denunciare che quello che sto facendo in questo momento puoi votare contro una maggioranza che però ti vota a favore ma finché maggioranza ha un voto più di te e quindi lo può fare adesso io lo dico lo spiego nel modo più chiaro e più semplice possibile il lavoro di denuncia penso che lo stiamo facendo quindi non venitemi a dire cosa dovete fare o cosa io passo tutto il giorno a sentire opposizione a sentire maggioranza sentire gente all'interno del 5 stelle all'interno degli altri partiti per cercare di fermare questa benedetta cosa l'idea di andare a dare testate fuori dal Quirinale l'unica cosa che si può ottenere è con gente che controlla tutti i media è passare per pazzi ecco vedete il pazzo che in spregio all'ordinanza per fare lo sciacallaggio politico su una cosa che nessuno capisce perché in questo momento buona parte del dei cittadini se tu in questo momento che è preoccupata il fatto che non può andare al mercato del paese di fianco se tu gli racconti del mess no immaginate un po immaginate un po che cosa che cosa ti dice no e quindi se io mi faccio vedere che vado a fare il simbolico assalto al Quirinale con le cose passo per un cretino no e ci vuole e ci vuole molto quindi l'unica cosa che si può fare è molto semplice e dipende dalla maggioranza vale a dire esiste la maggioranza per poter andare avanti sul mess sì o no oggi pomeriggio ho fatto con nel canale lì di meglio di niente un un bel dibattito in cui c'erano due deputati del movimento 5 stelle al vice maniero e raffa e raduzzi che molto chiaramente hanno detto che sono contrari a questa a questa questione bene la cosa è molto banale se esiste una maggioranza trasversale quindi che comprende fassina che ha già detto che è contrario che comprende noi che siamo contrari fratelli italia sono contrari e 5 stelle che dice di essere contrario la cosa è risolta si fa un bel documentino martedì probabilmente quindi approfittando che c'è in audizione il ministro Gualtieri per l'inizio dell'esame in senato alla congiunta camere senato per l'inizio dell'esame del decreto crescitalia si deposita il foglio stringato con le firme dei capigruppo a nome dei gruppi in in oggetto che dicono di non pensare nemmeno di usare il mess e a quel punto siamo a posto se però il movimento 5 stelle non lo fa evidentemente non lo vogliono abbastanza quindi non dovete far pressione a me non so se avete capito mi volete convincere mi volete convincere che il mess non va bene quindi se volete avere argomenti o cose di questo tipo dovete rivolgervi da altre parti credo visti i tempi e visto anche che la lettera ufficiale ufficiale secondo legge 234 mandata da bagnai per convocare il ministro per parlare del mess al momento mi risulta che non abbia ancora risposta però sai sabato domenica magari non la risposta c'è e la vedremo ma non credo che ci sia esattamente sto tempo per per poterlo per poterlo fare comunque lo vedremo ma l'occasione di martedì con due commissioni congiunte di poter depositare sulla tavola del ministro un bel documento firmato da capogruppo in numero sufficiente da avere una evidente maggioranza parlamentare seppur non si riesce ancora a avere un dibattito sul tema perché ricordiamo noi l'abbiamo chiesto ma ci è stato negato è l'unica maniera che mi viene in mente però poi però poi se questo documento verrà fatto e verrà depositato voglio vedere nel vogliamo vedere nel verbale del del che non ci sarà comunque nelle minute nel nel comunicato da parte dell'euro gruppo dell'euro summit la netta contrarietà dell'italia espressa perché ogni volta visto anche a giugno sì sì dico di essere contrario ma questa questa posizione poi non la si vede non la si vede mai il punto il punto è tutto qui quindi per noi possiamo semplicemente domandare che venga si ponga a termine a questo oggettivamente sta diventando stucchevole patetica situazione dell'uomo solo al comando che fa che fa pasticci vediamo di mettere un minimo di senso in tutta questa ridda di ordinanze decreti e cose di questo tipo che non si fa più è un'emergenza l'emergenza secondo me va gestita insieme non è una un'agenda politica e per quello che riguarda invece il punto specifico del del mess dato che i nodi arrivano al pettine il tempo sta arrivando dove in una maniera o l'altra qualche decisione deve deve essere presa a quel punto l'unica maniera che ho per far venire allo scoperto le posizioni ufficiali dei partiti è fare un documento comune perché se no altrimenti tutti diranno sì sì l'ho detto a parole ma al lato pratico non ho firmato niente e sapete bene che carta canta è l'unica maniera per poter gestire persone che non avrei mai voluto una situazione del genere perché voi capite che è una difficoltà aggiuntiva in una situazione del genere dove anche diventa armati per cercare di mettere la briglia a un premier che oltre a fare le dirette notturne senza avere in mano niente così questo tipo è lì anche che briga per fare delle robe su cui non ha mandato da parte della maggioranza capite che è un piccolo problema questo lo dico anche se per caso non lo farà mai ma se il presidente ci guarda noi abbiamo chiesto di essere ricevuti come opposizione proprio per proporre un cambio di passo ormai che mi sembra mi sembra assolutamente doveroso ma se il presidente ci guarda presidente mattarelli vuole essere ricordato per essere quello che ha dato mano libera a una persona che ostensivamente e costantemente fa il contrario di quello che il parlamento gli dice di fare veda lei cioè io no cioè ha un ha un suo capitale di credibilità che tutto il paese le riconosce se non ora quando quando